i bianchi come sempre iniziano con l'intervista di simoni che aspetta tutto l'anno per parlare di rigori poi c'è anche pioli che sente che è il momento mentre a china town fa corsi sull'avento per tutti i giornalisti l'inder salverà il campionato ma non aveva fatto i conti con la danza di quadrato che fa uam 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 con un sinuro fa impazzire i tifosi miracoli e traverse dai prescritti viene la nevrosi dell'innano nella propria area la tocca due volte con la mano il post partita è un capolavoro pioli pistocchi e ferri rosicano più di un castoro uam 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 uno Moscone l'interesse belle domenica dalla curva mi ho visto un poco scossi ma stavolta non mi salva neanche Guido Rossi alla fine di questa giornata tutto quel che resta è la vostra figuraccia La danza di la Vespa Che fa wang 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 Urash Ciao